Ragazzi, ma è possibile che ogni volta che vi faccio vedere una preparazione gluten free mi dite che devo cambiare il coltello, devo entrare in una camera iperbarica, a bassa pressione, che cucino nello stesso bollitore in cui cucino col glutine? Vi voglio mostrare questa. Qui abbiamo il laboratorio tradizionale. Poi, seguitemi. Invece questo è il nostro laboratorio senza glutine. Qui ragazzi è dove vi faccio vedere le nostre preparazioni, le nostre paste senza glutine. Quel bollitore è solo senza glutine. Qui si cucina solo senza glutine. Ragazzi, più di così io non so più come fare. Venite voi, venite a vedere perché non so più come fare.